presentato in diretta streaming il nuovo calendario istituzionale 2021 della polizia di stato presenti il capo della polizia franco gabrielli in collegamento con il ministro dell'interno luciana lamorgese il calendario ripercorre 40 anni di storia iniziata nel 1981 anno della legge numero 121 che ha istituito la polizia di stato come prima forza di polizia civile ad ordinamento speciale e delineato il sistema dell'amministrazione della pubblica sicurezza in italia 12 scatti per raccontare il cambiamento dopo gli anni del terrorismo e della violenza cruenta della criminalità organizzata anche quest'anno il ricavato delle vendite del calendario sarà devoluto al comitato italiano per l'unicef per il progetto volto a fronteggiare le situazioni di disagio minorile conseguenti all'emergenza da covid 19 chi volesse può farlo direttamente andando sul sito unicef all'indirizzo www.regali.unicef.it e riceverlo a casa o attraverso un versamento sul conto corrente postale numero 745 000 intestato a comitato italiano per l'unicef indicando sul bollettino la causale calendario della polizia di stato 2021 per il progetto unicef emergenza coronavirus copia dell'attestazione di versamento dovrà poi essere presentata all'ufficio relazioni con il pubblico della questura della spezia